C'è anche Salvini oggi a Firenze, cosa vorresti dirgli? Che non capisce proprio niente, nient'altro da dire. Che cosa vorresti dire a Salvini, c'è anche lui oggi a Firenze? Che noi ci siamo, lui fa il che vuole, ma noi ci siamo. Noi siamo felici di essere con questi ragazzi. Quindi insomma è un messaggio a Salvini? Ma secondo me è un messaggio a questa destra che secondo me fa rischiare parecchio a questo paese. Alla sostituzione. Mandiamo un messaggio che noi vogliamo, almeno io voglio personalmente, una politica che non strumentalizzi così l'informazione, ma che sia più trasparente e più chiara. Anche te la sardina colorata, perché è colorata? Perché è bella, è una sardina viva, con tutti i colori. Credo che sia importante partecipare, essere qui presenti con tutti. Lei non è italiana? No, io sono tedesca. E che ne pensi di Salvini dall'estero? Ma io credo che si sta meglio senza. Grazie. Grazie a tutti.